Io mi occupo di proprietà intellettuali, quindi da me avrete più che altro una visione relativa a queste cose che abbiamo già detto legate alla diffusione delle fotografie, ma come vedremo anche più in generale contenuti. L'obiettivo del mio intervento è darvi qualche strumento in più per capire come gestire i diritti d'autore sui materiali che vengono creati nell'attività didattica. Ormai è superata la fase in cui si adotta un manuale e il docente non fa altro che fare riferimento al manuale o al sussidiario, ma si è entrata in una fase in cui la didattica prevede la creazione live con l'intervento dei ragazzi, degli studenti, di materiali creativi, intellettuali, di riferimento, banche dati, elenchi di link, raccolte di filmati, tutti questi materiali, aggiungiamo anche il software utilizzato per fare queste cose, vengono poi chiamate genericamente educational resources e quando sono in un'ottica open, open source, open content, open educational resources e dopo vedremo, abbiamo una slide proprio su questo tema, però facciamo un po' una panoramica generale per capire in quale campo ci stiamo muovendo, perché so che appunto sul diritto d'autore ci sono veramente tante leggende metropolitane e c'è bisogno di fare un po' di chiarezza, quindi la prendo un po' larga, vabbè, a parte appunto le presentazioni di diritto, poi più che altro per le slide e più che altro se qualcuno usa Twitter e vuole twittare live o qualche foto, a me fa piacere, io sono Simone Aliprando tutto attaccato, così poi rimanete anche in contatto e anche il blog lo segnalo perché le slide che state vedendo sono già sul blog, quindi se qualcuno se la vuole guardare sul tablet o sul cellulare perché gli risulta più semplice, va su aliprandia.blogspot.it e trova già le slide e se volete anche tutte quelle degli altri miei interventi sul mio slide share ci sono tutte, parentesi, settimana scorsa ero a Olbia, sempre per un evento simile a questo, un convegno sulla digitalizzazione della didattica e quindi ci sono anche le slide di quell'intervento molto interessanti. Vabbè, questi sono i due manuali anche qua, più che uno spot pubblicitario ai miei libri è che essendoci lì i miei libri sono open a loro volta, quindi sono disponibili online in licenza creata e conus che dopo vi spiegherò cosa significa, almeno li potete vedere cliccando su questi due link, andate a leggerli e capirete concretamente che cos'è una Open Educational Resource. Un'introduzione, io pongo l'accento e il focus quando parlo in contesti come questo sul discorso di un livello di consapevolezza che trovo all'interno della scuola abbastanza basso sul diritto d'autore e un po' mi spiace, in realtà anche in tutti gli altri settori, ma questo è abbastanza fisiologico perché il diritto d'autore fino a pochi anni fa era percepita come una materia di nicchia e lo è ancora adesso, però prima era ancora più di nicchia perché era riservata ad addetti ai lavori che si occupavano di quel settore, della produzione culturale. Quindi se non eravate degli editori, dei musicisti professionisti, dei produttori, difficilmente vi interessava la materia. Adesso di colpo, nel giro di 10-15 anni, abbiamo una sala piena di 60 persone che vengono a ascoltare cose anche sul diritto d'autore, interessate, fanno domande su questo tema. Gente che fino a qualche anno fa non si sarebbe interessata, perché? Perché adesso l'evoluzione tecnologica ci ha portato in una cosiddetta società dell'informazione in cui siamo tutti diventati produttori e riutilizzatori di contenuti creativi da parte di altri. Basta avere uno di questi aggeggi qua da 80-90 euro e abbiamo una, come diceva il collega prima, una infinita possibilità di riutilizzo e diffusione di materiali che solo qualche anno fa era impensabile. E quindi già il fatto che siate qua mi fa piacere perché comunque aumenta il vostro livello di consapevolezza. Uscirete di qua con qualche lampadina accesa più in testa, poi magari non sarà sufficiente per farvi dei giuristi esperti di diritto d'autore, magari organizzeremo un incontro di formazione di 3-4 ore come abbiamo fatto a Voghera a dicembre, è venuto benissimo, 3 ore di formazione. Anche quelle non sono sufficienti però hanno fatto un passo ancora in più. Però c'è un altro problema che è legato al vostro settore, che è strettamente legato al vostro settore che è quello che dicevamo prima, che non basta la consapevolezza e la formazione del docente ma anche un ruolo di guida civica ed educativa verso gli studenti. E quindi dovete anche dare il buon esempio, detto proprio terra a terra. Inutile fare grandi lezioni sul rispetto delle normative, ad esempio legate alla diffamazione online e al copyright, quando poi il docente proietta le sue slide ed è il primo a usare le foto prese da internet senza citare, senza rispettare le licenze. Quindi il ragazzo, lo studente, si modella subito sull'esempio che ha di fronte e dice vabbè sì, grazie, ci stai raccontando un sacco di cose, però sei prima a farlo, quindi vuol dire che sotto sotto si può. Cercherò appunto di mettere un po' l'accento anche su questo aspetto. Allora, questa parte qua me la risparmio perché è stata detta egregiamente dal dirigente che ha organizzato questa bellissima giornata. Quindi perché sono qui e perché appunto c'è, perché sono qui, perché sono stato ad Olbia la settimana scorsa e perché sarò altrove nel giro di poche settimane, sempre legato al mondo della scuola, perché il piano nazionale della scuola digitale prevede un'azione strettamente legata al mio settore che è quello della produzione dei contenuti e anche all'aspetto delle licenze, della gestione dei diritti sui contenuti creati in autoproduzione da parte degli studenti e dei docenti. Quindi questa è la famosa azione che volevo citare, è uno screenshot del piano nazionale della scuola digitale. Queste sono le parole chiave. Occorre fornire alle scuole una guida che distingua con chiarezza le varie tipologie di risorse digitali disponibili, i criteri e le possibili forme del loro uso, illustrando in particolare per quanto riguarda l'autoproduzione dei contenuti, che è appunto il tema che diventa centrale in questa società dell'informazione, le modalità dei processi di selezione, produzione e validazione, nonché le caratteristiche tecniche da rispettare per massimizzare qualità efficace e riusabilità dei contenuti. Tutto ciò nell'ottica di incoraggiare i processi sostenibili funzionali di produzione e distribuzione che possibilmente aiutino a far emergere, diffondere materiali migliori e facilitano la validazione collaborativa e il riuso, quindi ribadisce il concetto di riuso dei contenuti creativi e delle risorse didattiche. Garantendo, questo mi piace un sacco, un regime di diritti che sia sensato e funzionale per le Open Educational Resources. È molto ambizioso, garantire un regime di diritti che sia sensato e funzionale con quello che vediamo giorno per giorno legato all'ambito del diritto autore è un obiettivo molto ambizioso, però vediamo se questo piano nazionale riuscirà a raggiungerlo anche magari parzialmente. Quando si studia il diritto d'autore, tengo a sottolineare che la materia normalmente si studia con queste due ottiche, in generale tutto il diritto della proprietà intellettuale, quindi anche i brevetti, i marchi. Da un lato c'è l'ottica del titolare dei diritti, c'è l'ottica di colui che ha creato l'opera e quindi vuole tutelarla e avere il controllo di come viene utilizzata la sua opera. Dall'altra c'è l'ottica di tutti gli altri, tutti coloro che trovano quest'opera devono sapere che cavolo possono fare, posso utilizzarla, non posso utilizzarla, a chi devo chiedergli il permesso, a chi non devo chiedere. Però come vedete sono due rovesci della stessa medaglia, nel senso che si studiano sempre tutti e due, perché uno per un motivo anche sistematico, io per sapere da utilizzatore quali sono i diritti che vado a, quali sono le libertà che io come utilizzatore ho, devo sapere di chi sono questi diritti e a chi devo chiedere il permesso e quindi ovviamente devo conoscere anche l'ottica del titolare dei diritti e viceversa l'ottica del titolare dei diritti deve sapere quali sono le libertà di utilizzo normalmente concesse agli utilizzatori. Però la cosa importante da capire è che in realtà questa slide l'ho fatta con due colori molto netti, separati da una linea bianca, ma in realtà sono sfumati i confini, nel senso che proprio per quello che dicevamo prima, basta avere uno di questi aggeggi qua da 90 euro, diventiamo automaticamente sia utilizzatori che ridistributori, scusate, sia creatori sia ridistributori di contenuti e lo siamo sempre, siamo sempre un po' a cavallo tra queste due anime, perché difficilmente ormai si crea qualcosa da zero, ma la creatività è sempre derivata, sempre più derivata perché non si fa altro che rimpastare qualcosa che altri hanno creato o che io stesso ho creato in precedenza e nello stesso tempo aggiungo creatività che poi anche gli altri possono riutilizzare. Quindi questi due confini, queste due ottiche vanno tenute sempre in considerazione come se fossero due entità distinte, ma in realtà sono due rovesci della stessa medaglia con un confine sempre molto sfumato. Allora, come se acquisisce il diritto d'autore, torno indietro, ho nascosto la slide apposta perché voglio lanciare una provocazione, lo chiedo a voi, cioè una volta che avete creato il vostro, non lo so, testo didattico oppure video didattico, le vostre slide ad esempio, come diventate titolari dei diritti d'autore, cioè cos'è che fa scattare la tutela? Perché questo è veramente il tema chiave, nel senso che se non capiamo questo, da questo poi nascono tutte le leggende metropolitane normalmente diffuse sul diritto d'autore. Niente, silenzio. Cioè il fatto di essere arrivato prima di un altro, ok. Quindi si scrive sotto, quindi indicare il proprio nome, quindi senza una particolare formalità. Siete tutti d'accordo? Sì, quelle però sono i termini, siamo ancora più a monte, cioè come faccio ad essere certo, cioè come faccio ad acquisire il diritto d'autore, a dire che la roba lì è mia e quindi dovete chiedere permesso a me. Alla SIAI, ecco aspettavo appunto che arrivasse questa. Altri? La parola SIAI è una parola chiave che adesso usiamo. Altri? SIAI? No, perché state dicendo esattamente una cosa, prima avete detto basta scrivere il nome sotto, adesso dite SIAI. Capite che stiamo già parlando di cose molto diverse. Stabilisco i termini di rilascio? E basta. Però ancora a monte dico, perché sulla base di quale diritto io stabilisco i termini d'uso di un'opera? Perché l'ho fatta io? Vabbè, ok, esattamente quello che volevo. Allora, alcuni dicono, basta che l'abbia fatta io e, come dice la collega, è che l'abbia fatta prima di altri, giustamente, e altri dicono no, ci vuole che qualcuno in un certo modo dia un crisma a questo mio atto creativo. E la risposta esatta è la prima, cioè basta che l'abbia fatta io, nel senso che la legge dice, in questo tipico linguaggio legalese per dire come si acquisisce, cioè il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera. Ok, quindi è sufficiente, qua la particolare espressione del lavoro intellettuale, vabbè, però è sufficiente l'atto creativo per creare il diritto? Non c'è bisogno di qualcosa, qualche ente che certifichi questo passaggio? Ed è fondamentale capire questo, perché vuol dire che è subito nel momento in cui ho creato l'opera che sono titolare dei diritti. Non c'è bisogno dell'intervento di qualcosa, è il brevetto che ha quel meccanismo per cui deposito l'invenzione, e quindi siamo su un altro ambito, non è quello delle creazioni intellettuali, ma è quello delle invenzioni industriali, e quindi acquisisco il diritto. Questo cosa implica sostanzialmente che se, come corollare di questo principio, lo dico anche qua molto terra a terra, che se una cosa non l'ho creata io, vuol dire che l'ha creata qualcun'altro, o no? Trovo un contenuto creativo, trovo delle slide online, trovo una foto, mi passano un cd, se quella roba lì non l'ho creata io, vuol dire che l'ha creata qualcun'altro, e visto questo principio vuol dire che questo qualcun'altro ha i diritti. Abbiamo chiuso un cerchio su cui solitamente si crea molte leggende, per cui la leggenda principale è che se non c'è scritto nulla, vuol dire che allora è libera. Ahimè, è esattamente il contrario. Quindi questo è il primo messaggio che potete passare, cioè che se questa roba qua non l'hai creata tu, l'ha creata qualcun'altro, quindi questo qualcun'altro userà a chiedere come la pensa. Poi magari, come dicevamo alcuni di voi, ha messo dei termini d'uso in cui dice è libero, va bene, ok, allora abbiamo appurato che lui gradisce e che io la riutilizzi, ma fino a quel momento non ho questa certezza. Adesso arrivo sul quanto libero. Quali sono di preciso i diritti acquisiti? Vabbè, ve lo risparmio, questo è uno schema che tratto dal mio libro, tratto il libro per farvelo vedere fisico, esiste, ce l'ho anche qua a cartaccio. Questo è lo schema di tutti i diritti previsti dalla nostra legge, la legge italiana sul diritto d'autore e la società del 41. Come vedete hanno una dicotomia, primo in diritti di tipo personale, poi diritti di tipo patrimoniale e poi tutta la varia distinzione, non abbiamo il tempo per farla, questo è tipico da corso di formazione, se facessimo un corso di tre ore avremmo il tempo di appunto dettagliarli, fare un po' di esempi, però questi qua sono i diritti d'autore, i diritti che l'autore acquisisce con quel atto creativo automaticamente. Quindi da quello che abbiamo detto, questo principio deriva questo schema, per cui il copyright va inteso sempre come un meccanismo che agisce secondo il detto closed by default, cioè è chiuso per definizione, a meno che ci dicano che è aperto. Per prudenza, se io non ho la certezza che l'autore mi ha dato delle libertà di utilizzo, devo trattare quel contenuto come se fosse sotto copyright. Poi adesso vedremo che ci sono delle aree franche in cui il diritto d'autore non arriva, per fortuna, e molte riguardano la vostra attività, ok, va bene, quindi tranquillizzatevi, però la regola è così, anche qua lo schema è molto netto, da una parte c'è la regola, di là scusate, c'è la regola che è il copyright, tutto sotto copyright, a meno che siano scaduti i termini, allora se sono passati i famosi 70 anni dalla morte dell'autore, ad esempio, per un'opera letteraria, allora diventa patrimonio della normalità, tutti possono utilizzarla liberamente, ma devo essere certo che sono passati quei 70 anni. Perché dico bisogna essere certo? Perché c'è stato pochi mesi fa la discussione a gennaio sul diario di Anna Frank, morta nel 1945, quest'anno erano i 70 anni dalla morte, salvo poi scoprire che in realtà il diario che tutti conosciamo non è la forma originale, ma è una rilaborazione creativa fatta dal padre che è morto nell'80 è qualcosa, 81, quindi, ahimè signori, abbiamo ancora un bel po' di anni prima che questa opera sia in pubblico dominio. Però, vabbè, chiuso questo discorso, passiamo a quelle aree franche che vi dicevo prima, cioè le eccezioni, cioè ci sono alcuni casi in cui in realtà posso utilizzare l'opera senza dover chiedere il permesso al titolare dei diritti. E quali sono i casi? Uno, se è la legge che mi dice che in questi particolari casi non devo chiedere il permesso, e adesso li vediamo. L'altro è il famoso caso delle creative commons, delle licenze open, cioè è l'autore che ha detto ti do un permesso a priori, cioè prende e collega una licenza, io l'ho fatto ad esempio nel libro, mettendo nel colofono del libro, oltre ai dati di edizione e anche ai riferimenti della licenza, allora uno vede e dice, ah, l'autore mi concede le libertà, tra cui ad esempio fotocopiarlo integralmente, distribuirlo anche online, farne opere derivate e via dicendo, anche a scopo commerciale perché io concedo anche quello. Se però l'autore non lo fa, dobbiamo attenerci a quelli che sono gli articoli 65 seguenti della legge sul diritto d'autore italiana, le cosiddette libere utilizzazioni, in realtà adesso vengono chiamate eccezioni al diritto d'autore, prima si chiamavano libere utilizzazioni, poi il legislatore nel 2003 ha cambiato, le ha ridefinite, ha cambiato anche terminologia perché ha detto non si sa mai che la gente pensi che siano libere, allora chiamiamole eccezioni, così anche semanticamente ha sottolineato il fatto che la regola è il diritto d'autore, ok? E poi ci sono delle piccole aree di respiro. Come vi ho detto prima però, c'è anche il caso del pubblico dominio, cioè nel senso per fortuna il copyright non è eterno, anche se stanno trovando il modo di renderlo eterno, allungando, aggiungendo sempre anni e stratagemi tipo questo qua di Anna Frank, trovare il modo di far risultare l'intervento creativo di un'altra persona che non è ancora morte e via dicendo. Però, quando sono scaduti questi termini, per fortuna l'opera diventa di pubblico dominio, nessun diritto riservato e utilizzo libero, senza condizioni, non devo chiedere le condizioni, permesso a nessuno, non devo stare lì a guardare se c'è una licenza, punto. È di pubblico dominio, non devo chiedere a nessuno per usare pezzi della Divina Commedia, ok? Non è che arrivano i parenti, i discendenti di Dante a chiedermi qualcosa. E quindi, vabbè, questi sono i tre casi in cui un'opera è un pubblico dominio, anche qui non abbiamo tempo, però ci sono casi in cui è la legge stessa di essi, che ad esempio ne parlavamo prima a pranzo, no? I testi delle sentenze, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni sono di pubblico dominio. Non bisogna aspettare che muoia il giudice da 70 anni, ok? Il testo di una sentenza, essendo dato in nome del popolo italiano, in quel caso è un documento prodotto dallo Stato italiano e quindi diventa opera di pubblico dominio a priori, lo dice l'articolo 5 della legge. Però, appunto, salvo questo caso, in realtà bisogna aspettare, il caso più frequente è il caso B, cioè aspettare che siano scaduti tutti i diritti di privativa su di essa. E vabbè, poi c'è il caso C che vi risparmio, cioè quando si crea artificialmente il pubblico dominio attraverso una sorta di licenza che è la CC0, non abbiamo tempo di parlarne, però esiste anche questa opportunità. Tutti gli altri casi che erano quelli della slide precedente, cioè stabiliti dalla legge articoli 65 e seguenti, sono questi. Libere utilizzazioni anche meglio dette attualmente a eccezione del diritto d'autore, ovvero sono casi specifici, indicati specificamente dalla legge articoli 65 e seguenti, in cui un'opera che è ancora sotto copyright, quindi non sono ancora scaduti i termini, però può essere utilizzata senza chiedere il permesso e lo dice la legge. Se noi fossimo negli Stati Uniti ci basterebbe questo articolo. Gli Stati Uniti, e su questa cosa sono molto avanti, hanno il cosiddetto fair use, come lo tradurreste? Fair use è l'uso corretto, l'uso lecito, l'uso leale sarebbe, il fair play è il gioco leale nello sport. Questo è il principio generale del diritto americano secondo cui l'uso, il fair use, l'uso leale corretto di opere copyrighted, di opere sotto copyright, non è, vado alla fine, un infringement of copyright, non è violazione di copyright se si svolge all'interno di uno di questi casi, che come vedete è la riproduzione in copie, phonorecords o altri mezzi, che sia a scopo di criticismo, quindi critica, commento, news reporting, cioè la cronaca, ecco il vostro, teaching, insegnamento, attenzione, dice espressamente, incluso la diffusione di copie multiple a uso classe, cosa che noi non abbiamo ad esempio? Scholarship or resource, quindi ricerca privata o ricerca in senso più ampio, più specifico. Questi sono gli americani, su questa roba sono molto avanti, loro hanno un principio generale molto meno dettagliato del nostro, non hanno un elenco di articoli che dicono quali sono i casi, stanno generici e poi lasciano che siano le sentenze dei giudici a definire singoli casi, questo perché? Perché loro sono un ordinamento di common law e quindi è proprio il loro sistema giuridico che funziona diverso, su questo non possiamo agire, dovremmo tornare indietro di qualche secolo o forse millennio di storia giuridica, ok? Però il nostro approccio è quello più simile al fair dealing, ovvero altri paesi sempre di matrice common law hanno già previsto una cosa simile alla nostra, dove come vedete i casi sono sempre studio, ricerca, critica, commento, parodia e satira e cronaca, però la differenza è l'approccio, cioè qua ci sono dei confini molto definiti dalla legge ed è più o meno simile al nostro caso, che addirittura le chiama eccezioni al diritto d'autore, quindi neanche fair use, uso lecito o fair dealing, libera, eccezioni, quindi eccole alcune, ve ne segnano solamente tre, giusto? Che sono quelle che interessano più la vostra attività, ad esempio l'articolo 68 è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonea a spaccio diffusione dell'opera nel pubblico. Voi insomma più o meno avete un'età per cui il mondo prima del digitale ve lo ricordate, come lo ricordo io, e io alle medie andavo a fare le ricerche per la scuola, esatto, andavi in biblioteca, ti facevi dare il fascicolo della tre cani o del dizionario, e ti copiavi a mano le cose, non c'era neanche la fotocopiettrice con la tesserina, ok? Eh, poi il mondo si è evoluto, però ricordate la legge del 41, poi questa parte qua l'hanno riscritta, attenzione, quindi in realtà è aggiornata, però l'approccio è ancora un po' pre-digitale. È libera la fotocopia di opere esistente nelle biblioteche accessibili al pubblico e quelle scolastiche, quindi quello che interessa a voi, senza alcun vantaggio, scusate, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, quindi non è la biblioteca fatta dall'utente o per l'utente, ma è la fotocopia interna fatta dalla segreteria studenti per l'uso interno, però deve essere senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. E poi c'è la famosa norma del 15% che tutte avrete sentito nominare, il comma 3, cioè il fermo restando di vieto di riproduzione di spartite e partiture, perché loro vanno su un'altra normativa separata, è consentita nel limite del 15% di ciascun volume fascicolo di periodico, escluso le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, exerocopia, sistema analogo, ciclostile, queste cose qua. Ok? Però è legata a questo uso eccezionale. Un altro caso, questo che qua è molto centrale per la vostra attività, è l'articolo 70, cioè il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parte di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critico o di discussione, nei limiti giustificati a tali fini purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo devi non intervenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Faccio l'esempio per capire a cosa si voleva rivolgere questa clausola. Ditemi un autore montale, ancora tutelato, voglio fare un corso monografico su montale due settimane con i ragazzi e realizzo io, non posso andare a prendere il manuale, la dispensa che realizzo, non può prendere pari pari un'intera raccolta di opere di montale che è ancora tutelata, pubblicata da Mondadori o in Audi, in modo tale che la gente non comprerà mai più quella labbra che tanto ho, ho già tutto all'interno della mia dispensa. Deve essere riassunto citazioni e riproduzione di brani o parti di opera. Allora lì sì, perché? Perché c'è un intervento intellettuale creativo del docente, dell'autore che dice no, utilizzo questa quartina e commento. Se io invece faccio un'attività, fra virgolette, parassitaria, pedissica, dico sì, dispensa, faccio quattro pagine di presentazione e poi ci sbatto dentro tutta l'opera di montale. Ovvio che nessuno andrebbe più a comprare l'opera originale a 50 euro in libreria, quindi è questo che vuole evitare la norma. Quindi c'è comunque un margine di elasticità. E non credo che sia legato al sussiliario o al manuale, perché lì c'è già, nella realizzazione di un manuale c'è già una scelta creativa più ampia, cioè del scegliere gli argomenti a trattare e in quale ordine. Attenzione perché questo è il caso che vi interessa di più, il caso homo laicus, qualcuno l'ha mai sentito? Nel 2007 un vostro collega docente di storia dell'arte. Attenzione che il 2007 in realtà poi si rifà a un caso successo in anni ancora precedenti, cioè il 2007 è stata la legge, però era successo che appunto la SIAE aveva sanzionato un docente, perché? Perché aveva realizzato un bel sito web e pensate a quello che era internet nel 2002-2003 in quegli anni, cioè non schiacciava il tasto e aveva il blog di Google pronto, doveva avere una certa competenza per metterlo su un sito. Questo era un docente particolarmente digitale, già pronto, già avanti e quindi per un'attività meritoria e innovativa aveva fatto un piccolo sito in cui raccoglieva materiali che poi diceva ai suoi studenti andate a casa, ve li guardate, ve li scaricate. Piccolo problema che questo sito si occupava anche di arte contemporanea, tutelata. Volete dirmi qualche nome di autore tutelato? Pittore? mi viene in mente? Picasso, De Quiric, ok, De Quiric, tutto il Novecento è ancora, esatto, bisogna calcolare i famosi 70 anni della morte, però c'è una marea di roba ancora tutelata, lui ingenuamente aveva trattato Picasso, in quanto ormai è diventato un classico, come si trattava Raffaello, ahimè no, Raffaello è morto da un bel po' più di 70 anni, Picasso no, non solo, c'erano anche autori ancora magari evidenti. Ok, Siae si è trovata in una condizione di, da un lato riconoscere che era un'attività innocua e anche meritoria, ma la Siae in mente amministrativa ha detto io devo fare la sanzione perché sennò violo io la legge e quindi il problema era nella legge che non prevedeva questa eccezione. Ecco che allora il legislatore gli si è accesa la lampa diretta, adesso non può succedere che ogni docente venga mazzullato così, perché erano quasi 3.000 euro la multa, poi penso che lui sia rientrato comunque perché ha avuto per un po' di tempo una certa notorietà, l'hanno invitato a fare conferenze in giro, quindi penso che quei 3.000 euro in qualche modo li abbia coperti, però è stato, ancora adesso se cercate homo laicus non trovate più il suo sito o forse è diventato qualcos'altro, ma trovate la storia, cioè tutti gli articoli che raccontano la sua storia. Però grazie a questa vittima sacrificale abbiamo ottenuto una norma abbastanza interessante, scritta molto male però che dà un po' di respiro per tutti questi utilizzi su internet che sono sostanzialmente innocui e che hanno uno scopo divulgativo, informativo. Esatto, adesso la leggiamo, è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, quindi deve essere ovviamente una cosa legata all'uso su internet, nient'altro, quindi non vale l'esempio delle dispense, non vale l'esempio di altri tipi di spettacoli in pubblico. Deve essere a titolo gratuito e deve riguardare immagini e musiche, non parla di testi, perché per i testi c'è già il comma precedente, a bassa risoluzione o degradate, questa era la parte più criticata, perché la parola degradate orrenda, no degradato, ma poi non si capisce cosa vuol dire, perché un jpeg è tecnicamente degradato rispetto al tif, però a volte è sufficiente anche per fare stampa tipografica di un libro, basta che sia emmenso, quindi è abbastanza risoluzione del stesso discorso, però il concetto l'abbiamo capito, nel senso è brutta, però è meglio che ci sia piuttosto che non ci sia, perché ci dà uno spirale di respiro, la possiamo invocare, poi attenzione perché va avanti e dice per uso didattico scientifico e nel solo caso in cui talutilizzo non sia a scopo di lucro, quindi già prima ha detto a titolo gratuito e poi ribadisce non a scopo di lucro, perché sono due concetti giuridicamente molto diversi, a noi profani possono sembrare sovrapposizioni, però vedete come lo ribadisce, però il caso Molaikus era il classico, aggiunge poi che con decreto del MIBACT, adesso ci manca una T, sentito il MIUR, previo parere delle commissioni parlamentari competenti verranno definiti i limiti dell'uso didattico scientifico di cui è presente comma, invito i qui presenti dirigenti a cercarmi questo famoso decreto per chi non l'ha ancora visto, perché veramente dal 2007 a me non è giunta notizia che sia stato emanato, anche lì forse è meglio così, nel senso che abbiamo la norma, non abbiamo il decreto attuativo, però la norma c'è e quindi la possiamo invocare in qualche modo e interpretare, tant'è che dal 2007 ad oggi non c'è stato tanto contenzioso su questa norma, non è che ci siano state cause di cassazione, quindi da un lato forse vuol dire che funziona o no, non lo so, non è detto, non è certo, però tendenzialmente se non nasce contenzioso su una norma vuol dire che il suo lavoro lo sta facendo generalmente, quindi questa ve la segnalo, poi se qualche ministro si accorge che manca sto pezzo e fa il decreto, fatemi un fischio che me lo vado a leggere, e poi basta, prosegue, dice nell'antologia d'uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, questo è un altro regolamento, questo c'è, lo trovate sul sito del ministero, il quale fissa la modalità, se si fanno delle antologie in cui tante opere, tanti pezzi di opera vengono utilizzati e riprodotti, allora si paga un cosiddetto equo compenso all'autore, al montale di turno viene comunque dato qualcosa a titolo rispetto all'interno di questi confini stabiliti dal regolamento. Il riassunto, la citazione, anche questa è una norma che tutti pensano che faccia parte del galateo accademico, in realtà è una norma giuridica, il riassunto, la citazione e la riproduzione di questi brani devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, i nomi degli autori, dell'editore e attenzione, se si tratta di traduzione, anche del traduttore, cosa che non tutti fanno, io stesso lo ammetto, anche quando ho fatto la tesi dottorato, ho citato opere in traduzione italiana ma mettendo il nome dell'autore, basta, invece il traduttore ha un suo diritto d'autore, perché provate a leggere un autore tradotto male, il traduttore ha un'attività creativa intellettuale piena e quindi va citato anche lui. L'ultimo che mi interessava segnalare è questa specifica libera utilizzazione, questa eccezione di diritto d'autore relativa ai portatori di handicap, cioè in quel caso cosa succede? Allora se il portatore di handicap ha come unico modo per fruire un'opera quella di aggirare una norma sul diritto d'autore, allora in quel caso l'ordinamento giuridico dice è più importante tutelare l'interesse del portatore di handicap rispetto all'interesse privato e commerciale degli autori e degli editori, perché ovviamente il diritto fa anche questo tipo di valutazioni di cosa è più importante tutelare a seconda delle situazioni e questo è uno di quei casi, cioè ai portatori di handicap sono consentite per uso personale la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione pubblica degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitano a quanto richiesto all'handicap, ovviamente certo che un non vedente non può chiedere tipo di fruzione che non c'entra nulla col suo handicap, cioè un non vedente chiederà al massimo la traduzione di un libro in audiolibro o in braille, ok? Questo è il caso, quindi con decreto del Nibac e anche questo c'è, di concerto con il ministero lavoro, politica e sociali, sono individuate le varie categorie di portatori di handicap e i criteri per l'individuazione dei beneficiari, nonché le modalità con cui poi viene fruita questa eccezione. Poi ci sono tante altre, però vi ho segnalato solo le più importanti, però arriviamo al caso, tornando alla nostra slide di prima, l'ultima parte, cioè quando è il titolare dei diritti a stabilire che sia libero l'utilizzo, quindi anche se non siamo all'interno di uno di questi casi stabiliti dalla legge, abbiamo la licenza d'uso che ce lo dice, cioè è stato il titolare dei diritti che ha fatto questa scelta etica e lungimirante di liberare l'utilizzo dell'opera. Ed è questo, cioè che le cosiddette Open Educational Resources, cosa sono le OR? Cioè sono delle Closed Educational Resources che diventano Open, perché? Perché se il copyright è Closed by default, una cosa nasce Closed. Poi l'applicazione della licenza Open la apre, la rende libera, la riapre. E quindi l'Open License sono tutti quei casi in cui è lo stesso autore o comunque il titolare dei diritti, perché non sempre l'autore, a volte sono case editrici, produttori e via dicendo, a preferire che la sua opera circoli libera dai tradizionali vincoli del copyright. Per farlo si possono utilizzare apposite licenze, dette appunto licenze Open, e le più conosciute, non le uniche, ma le più conosciute sono le Creative Commons. Ce ne sono tante altre, però sono sicuramente quelle più diffuse e lo standard che si sta in qualche modo ormai radicando. Questo è l'effetto, cioè prima siamo arrivati in una situazione che abbiamo visto che c'è una riganetta in mezzo, un bianco e un nero, o tutto sotto copyright, o tutto fuori dal copyright, cioè il pubblico dominio, tranne quei casi specificamente indicati da legge che sono le cosiddette libera utilizzazioni o le eccezioni. Con le Creative Commons riesco a creare una zona grigia intermedia, una sfumatura di grigio, che ha questo motto, alcuni diritti riservati, che fa un po' il verso a tutti i diritti riservati tipico del mondo copyright tradizionale. Quindi attraverso queste licenze riesco a creare queste Open Educational Resources. I problemi vengono fuori nel caso in cui la situazione diventa un po' più complessa, cioè opera di un autore tedesco pubblicata da un editore inglese, in lingua turca e rivolta ad un pubblico arabo. Allora lì bisogna capire qual è, però ripeto, stiamo andando su un livello che non ci compiede adesso. Adesso a me entra a farvi capire che esiste questa ultima opzione che sono le licenze. Le licenze Creative Commons sono basate su quattro clausole, anche qua ve l'ho messa nelle slide, poi avete tempo per approfondire, non abbiamo tempo adesso di farlo. Sono quattro clausole base e dalla combinazione di queste quattro clausole Creative Commons ha tirato fuori sei licenze. Questi sono i simbolini, quelli che vedete qua sono i simbolini che identificano le varie clausole, le varie condizioni che l'autore vi sta chiedendo di rispettare. E queste sono le sei licenze Creative Commons. Attribuzione, attribuzione a condividere lo stesso modo, attribuzione a non opere derivate, le ho messe volutamente in questo ordine, cioè sono la più libera e la più restrittiva in fondo. Quindi se utilizzate quella in alto, l'attribuzione, sostanzialmente state dando molte libertà agli utenti, state liberando molto la vostra opera, state chiedendo solamente che vi venga riconosciuta la paternità, l'attribuzione e nient'altro. E poi via dicendo, scendendo, vedete si aggiungono varie condizioni, fino ad arrivare alla più restrittiva che è l'ultima, come vedete a due clausole negative, non commerciale, non opere derivate. Basta, nel senso che la mia panoramica è finita, si può andare, come vi dicevo, molto più a fondo, però almeno avete adesso un po' di strumenti per capire in che terreno si stiamo muovendo. Se volete approfondire ci sono un po' di riferimenti nelle slide e appunto sui miei canali social. Grazie.